Allora, dopo anni, se io le notizie a un figlio mi mandavano a me, mi salutavano, le persone che si portavano, io supe che io gli aiutavo con il carri di salù, meglio mio, per te, per me, per me, per me. Allora, dopo anni, se io gli aiutavo con il carri di salù, e gli aiutavo con il carri di salù, e gli aiutavo con il carri di salù, E c'è… Asi… Anche lindos, lindos! Ese amico nostro, che vivia a casa, soffi dommo… ¡Tenia un cavallo, un conjunto cavallo! No, 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 no.